cooperativa agricola volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità senza uso di antibiotici direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori bentrovati al meteo il tempo non sarà ancora buono possibili episodi di instabilità interesseranno il nostro territorio il dettaglio di mercoledì 6 marzo sul veneto la grafica ci mostra un'alternanza di nuvole e rasserenamenti in pianura mentre sui monti avremo frequenti precipitazioni in estensione entro sera anche alle zone limitrofe le temperature saranno in lieve calo minime tra 2 e 7 gradi massime tra 7 e 15 gradi spostiamoci ora sul friuli venezia giulia il cielo sarà nuvoloso qui con piogge diffuse e in genere moderate localmente abbondanti quota neve intorno ai 1200 1400 metri anche a quote inferiori sulle prealpi carniche temperature minime tra 6 e 7 gradi massime sugli 11 12 gradi infine diamo uno sguardo alla situazione del trentino alto adige si prevede tempo perturbato con precipitazioni a tratti alternate a parentesi soleggiate temperature minime sui 3 5 gradi massime intorno ai 12 14 gradi dal meteo per ora è tutto vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia cooperativa agricola volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità senza uso di antibiotici direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori